La frattura di femore è una patologia in costante incremento nei paesi industrializzati per l'invecchiamento della popolazione e per le patologie legate all'invecchiamento stesso. Tra le prime, l'osteoporosi. La frattura di femore si accompagna spesso a un peggioramento della qualità della vita e a un incremento della mortalità nei mesi successivi all'evento traumatico. È stato dimostrato che intervenire precocemente dentro le prime 48 ore al trauma non solo favorisce il recupero del paziente, ma ne riduce anche la mortalità. All'Istituto Ortopedico Galeazzi, da circa due anni abbiamo sviluppato un percorso terapeutico dedicato al paziente con frattura di femore. Il lavoro di team si è dimostrato molto efficace, permettendo di intervenire rapidamente nella stragrande maggioranza dei casi. Chirurgo, anestesista, ma anche l'esecuzione degli esami di laboratorio e l'eventuale visita cardiologica vengono eseguiti nelle prime 24 ore. Questo permette una preparazione ottimale del paziente e permette anche eventuali successivi accertamenti. Si procede quindi all'intervento chirurgico e nel giro di pochi giorni il paziente riesce a ritornare a domicilio o essere trasferito presso una riabilitazione. Nell'anno 2015 all'Istituto Ortopedico Galeazzi sono stati effettuati interventi per riduzione di frattura di femore numerosi. Si parla di 385 interventi, di cui il 97,5% entro le 48 ore post ricovero. Questo ha permesso di ottenere ottimi risultati in termini di recupero del paziente e anche di ridurre i tempi di permanenza ospedaliera al di sotto dei 10 giorni. Grazie. 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 Grazie.